Giovanni Losciutto, carissimi amici che avete organizzato opportunamente questo incontro. Era del tutto naturale che arrivato ad un certo punto in Sicilia ci si fermasse a riflettere su quello che si sta muovendo nella politica e trovo ancor più naturale che anche in provincia di Trapani ci fosse un momento di riflessione su quello che si è verificato in questi ultimi mesi in rapporto non tanto all'interno delle questioni che hanno intaccato, come sul dirsi, il governo regionale. Io credo che c'è un problema molto più vasto nella società siciliana che ha ad un certo punto immaginato la creazione di uno scenario nuovo dando al PDL per certi versi e ad altri partiti che quella lì li avevano sposato delle funzioni ben precise. Funzioni che non sono state raggiunte, traguardi che non sono stati raggiunti, contraddizioni che sono scoppiate. E trovo naturale che queste contraddizioni portino poi ad assemblee come questa. Io so che non c'è voluto, caro Giovanni Losciutto, grande impegno per riempire questo auditorio. Se aveste voluto trovare il doppio delle persone bastava fare qualche telefonata di più. E quindi trovo straordinario il fatto che il semplice annuncio di una occasione di questa natura porti una domenica pomeriggio tante persone ad essere qui. Vuol dire che c'è ancora nei presenti almeno una grande voglia di fare politica, una grande voglia di partecipare a questo processo che avrebbe dovuto portare già in passato, ma non è stato così, ad una nuova società in rapporto alle funzioni della politica. Voi sapete bene che ho una posizione molto critica nei confronti di coloro che hanno consentito che le cose si incancrenissero. Queste contraddizioni avrebbero dovuto essere affrontate al momento opportuno e si sarebbe dovuto evitare che assumessero una tale amplificazione che ha spinto i non addetti ai lavori a non avere fiducia in tutto quello che si è proposto eppure tutto quello che si è proposto è frutto di serietà e di impegno. Noi facciamo la nostra parte in provincia di Trapani, ci occupiamo delle vicende nazionali, ci occupiamo delle vicende regionali, ma occupiamoci della provincia di Trapani per capire che cosa è accaduto in questi mesi in provincia di Trapani. Arrivato ad un certo punto non si capisce come la funzione dei partiti scompare, scompaiono anche le funzioni di calamita dei cosiddetti leader all'interno dei partiti, ciascuno immagina di poter camminare senza binari, senza una rotta, senza un traguardo da raggiungere. Ciascun soggetto che si trova all'interno di un meccanismo elettivo o comunque collegato a sistemi elettivi immagina di costruire un proprio partito e con il proprio partito crede di poter aumentare il proprio potere contrattuale nei confronti dell'interlocutore di turno. Tutto questo l'abbiamo denunciato, io e Tonino e da lì ci siamo trovati in più occasioni ad affrontare questioni di questa natura e ci siamo seriamente interrogati sulla opportunità di continuare a dare credibilità in attesa che qualcuno si ravvedesse a quei soggetti che invece hanno creato le condizioni che hanno portato anche a contraddizioni come quelle a cui stiamo assistendo in questo momento. C'è bisogno di chiarezza e c'è bisogno di chiarezza nel sistema politico. C'è bisogno di chiarezza all'interno di quegli organismi che hanno portato per esempio alla vostra decisione ma francamente se dobbiamo cominciare a percorrere una strada insieme è bene che noi si sia veramente federati e veramente alleati anche nel processo di ricostruzione della politica in questa parte della Sicilia. C'è anche una contraddizione dentro il PDL perché il PDL ha tentato in qualche maniera eccessivamente di ricucire il rapporto con Lombardo, di tentare anche di evitare che dentro maturassero posizioni capeggiate da chi ottiene la mia fiducia alla Camera dei Deputati, la fiducia di Tonino Dalì al Senato quale rappresentante del governo Berlusconi e poi nelle nostre aree organizza le cose contro quel partito che invece lo mantiene sotto segretario. Questo non sarebbe mai accaduto nella cosiddetta Prima Repubblica. Io non sono un sostenitore della Prima Repubblica, assolutamente. Se ci fosse ancora la Prima Repubblica io probabilmente non sarei diventato Presidente dell'Assemblea, Deputato Nazionale, Sindaco, non lo so. Questi modesti traguardi che sono stati da me raggiunti sono stati raggiunti grazie al fatto che non c'è più la Prima Repubblica. Però non è che io posso buttare tutto quello che è stato costruito nel tempo della società italiana legato al mondo della politica. Questo non si sarebbe potuto verificare in una società in cui i partiti avevano e esercitavano un ruolo di primo piano non soltanto nell'esercizio della politica esecutiva ma anche nella formazione di colui che doveva prima diventare militante e poi entrare nei dibatti, di farsi conoscere, partecipare alle gare elettorali, qualche volta vincere, qualche volta perdere e al tempo stesso sentirsi protagonista del momento che si vive. Tutto questo non c'è e non c'è più Stato. Ora permettetemi di salutare Mimmo Nania non tanto come Vice Presidente del Senato, lo voglio salutare come coordinatore regionale del partito perché insieme a Peppe Castiglione ha messo in moto un sistema che comincia a dare i suoi frutti. Noi comprendiamo bene che il Presidente Berlusconi ha tentato fino in fondo, fino in fondo di ricucire la baracca come sul dirsi e noi stessi siamo stati all'interno della sedeteria regionale con le persone più vicine a Mimmo Nania abbiamo spesso discusso di tutto questo, abbiamo tentato che ci fosse un'evoluzione delle cose in guisa tale che si raddrizzasse la barca ma quando la barca non si raddrizza perché gran parte dei componenti dell'equipaggio giocano a sfasciare continuamente la barca immaginando la nascita di scenari personalistici, beh c'è poco da salvare. Allora qui c'è da ricostruire. Ecco perché personalmente accolgo con molto favore, caro Giovanni, caro Enzo, carissimi amici, questa occasione. E mi piace sentir dire che c'è chi con orgoglio, con gli stessi caratteri, scrive Alleati per il Sud e Federati del PDL. Perché qui si apre una funzione nuovissima del PDL. Non soltanto un grande contenitore di chi condivide il 100% del PDL. Il PDL assume, e voi siete una bellissima occasione sperimentale, il PDL assume la funzione di calamita per fare in maniera tale di costruire una sorta di grande area vasta di chi ci sta nel tentativo di cambiare le cose in Sicilia. Di chi vuole ripristinare le regole della politica, di chi vuole che vengano fissati principi in politica, principi che devono essere vincolanti per chiunque accetti di militare all'interno di quest'area. Certo quando parliamo di sistemi democratici, certo quando parliamo di quel che è accaduto dentro l'MPA, noi non possiamo che prendere atto del coraggio di chi è arrivato ad un certo punto, dice ma per avere qualche poltroncina in più di sottogoverno io devo rinunciare al mio diritto di esercitare la politica, io preferisco il diritto di esercitare la politica e discuto probabilmente con Nicola Cristaldi o con Tonino Dalì, i quali forse potranno darmi meno di quel che avrebbe potuto darmi Lombardo, ma almeno ho il diritto di fare politica, di misurare le mie idee e di chiedere un tavolo in cui è possibile discutere delle cose da fare.